Saldana, qual'è l'importanza di questo award? Penso che sia il più importante, più prestigioso per un autore dei bambini o illustratori. Per me l'importanza è che rendere questi bambini disponibili per i bambini all'interno del mondo. L'illustrator russiano è un ottimo artiste e non è stata pubblicato in grado di Russia, che è terribile. Quindi speriamo che questo aiuterà le persone a arrivare a questi bambini e nel passato ha sempre aumentato la loro visibilità e il profilo del mondo. Sì, speriamo che i giocatori sono da tutto il mondo. Sì, possono essere Russia, Japan, altri anni, Brasil, Iran. e i giocatori hanno venuto da tutto il mondo e non dal mondo commerciale ma dal mondo di creazione alta qualità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.